Salve sono Louis Fran, quello che ha parlato, quello che ha parlato con, di Animal Crossing Ora faccio un mio commento, beh il primo giorno, il primo giorno è abbastanza noioso, non si fa quasi niente All'arrivo si, subito è arrivato a Manu, che vuole i soldi e la vuole Io l'ho passato quasi tutti i tempi a dormire Spero che non avete fatto il video mentre dormivo, perché quando dormo sono pericoloso Vigi, mica l'hai fatto? No Sicuro? Sì, sicuro, sicuro Lo sai perché sono pericoloso quando dormo? Perché? Ah, dillo, lo sai, no? Ah, lo so, perché fai le pupù Eh, ma mica l'hai registrato, tu l'hai detto, mamma, che vergogna, che vergogna Diciamo, va bene, andiamo avanti Siamo, Luigi, mu, abusi Come fai, andiamo avanti Animal Crossing Il primo giorno si passa quasi tutti Si passa Quasi tutto il tempo A parlare, a lavorare con un Robo molto noioso Mi viene stona solo a pensarlo Poi Avete visto alcuni consigli che vi hanno dato Francesco e Luigi Quali consiglio di prendere Con la palla di prendere i soldi e roba e altre roba Bene, il prossimo video che metteremo Sarà il ragionamento Disney Blu-ray Quindi, ora, una bella sigla E tutto passa Mi chiamo Luisa Sono il cagnolino Sono la stella Di questo youtuber Ancora? Si, 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 si Mi chiamo Luisa Sono il cagnolino Sono il cagnolino Sono il cagnolino Di questo youtuber Ciao 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 And Fine Commentate, votate e iscrivetevi E scaricatevi a Bobbi La mascosta del mio Del mio canale Mi chiede Bobbi Eh, lui, fra scusate Non mi pregherò Bobbi Chi è il mito Bobbi Fatemelo sapere Commentate, votate e iscrivetevi Basta che non dice di nuovo Bobbi Ciao Ciao, ciao Ciao